e tanta randanesi per tutti ragazzi vabbè forse non ci stava come intro comunque siamo qua su GTA 5 con un botto di gente che non conosco non so chi sono e siamo qua per fare appunto una gara adesso sono classe musculo musculo ecco comunque muscolo ora attuale numero di giri 2 attualmente la radio è un po' stata su no perchè se no mi baccherei tanti di quel copyright di strike di kit e mort e quindi ragazzi appena sto qua si decida a far partire la lobby cioè a far partire comunque la partita ecco con tanta gente che gli scrive contact please se vogliono il numero basta chiederglielo comunque partiamo subito appunto appena si avvia e io dato che ho trasferito l'account dalla playstation 3 al pc per motivi di lasciamo stare li sapete mi sa dovrei avere le macchine muscole muscole ecco quindi appena parte casomai che ormai mi ha fatto durare tipo un minuto la cazzo di lobby e andiamo al gameplay e quindi dato che siamo in tanti qual è l'obiettivo ragazzi? arrivare primo secondo o terzo e quindi diamoci questo obiettivo e se volete perché c'è soltanto sta macchina non è possibile vabbè prendiamola come il colore della crew che cacchio fa quello? si stava scaccolando vabbè comunque stavo dicendo voi se per caso non arrivo tipo primo secondo o terzo se arriverò quarto mi date che cavolo non so una ovviamente scrivendolo nei commenti perché ragazzi voi scrivete nei commenti ma non do per scontato quello che scrivete nei commenti io prima o poi farò uscire dei video dove metterò le cose che insomma le challenge dove voi mi scrivete quello che c'è da mangiare bere quello che c'è da fare e dire gli immortacci loro non hanno messo senza collisioni comunque quindi commentate dio santissimo che botta che gli ha dato oh cazzo vabbè quindi ragazzi mi raccomando mettete anche like perché ovviamente se mettete dei like io poi farò uscire il video e e quindi niente godetevi il gameplay è buona uno è andato fuori perché l'hanno fatto sbandare adesso io qua devo stare attento uno si sta vengono comprando il camion oh cacchio oh cacchio guardali lezzi madonna beata madonna beata madonna madonna non è possibile guarda guarda vai vai pure avanti va là che ti supero in rientro la solita cavolata che fanno tutti cercano di superarti poi a un certo punto gli superi tu perché è così che funziona basta guardare moto gp si capisce anche tutto anche formula 1 vabbè comunque sono quinto quindi adesso sono anche quarto quindi ho soltanto due persone davanti da superare anzi tre persone da superare ma mi sa che il primo non lo riprendiamo a meno che non sbaglia mentre questi due se non faccio errori ragazzi c'è il rischio di riprenderli quindi mi raccomando sempre con molta calma perché se no non si riesce veramente ad andare oltre quindi non si riesce a superare nessun avversario se si ha l'obiettivo appunto di oh basta io lo devo superare io di qua tanto quelli là adesso iniziano a lottare sicuramente quello lì farà sbandare quell'altro questo qua è fermo a FK e niente ma adesso vediamo un pochettino come riuscirò a superare questo che non ci riesco Cristo comunque ragazzi sono senza webcam perché non so che fine abbia fatto e non capisco se questo qua davanti è un avversario mi sa di sì no non è un avversario sembrava un avversario detto che aveva una macchina Bushlu ovvero la Sabre bravissimo sì così perdi un po' di tempo e c'ho la possibilità di recuperarti vai così grande giallo con la mia macchina qua spastica di colore della crew ah comunque il bastardo non ha messo aiuto con la scia quindi mi rende le cose ancora più complicate grande grandissimo bravo bravissimo dai mi devo tenere la terza posizione devo finire in terza posizione se finisco in terza posizione giuro che mi bacio il piede nel prossimo video cioè giuro che lo faccio madonna e quindi ragazzi vi ridico mi raccomando spolliciate mettete almeno 5 like per questo video non chiedo tanto e oddio santissimo oddio santissimo no no riprenditi riprenditi dai 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 la fine è lì la fine è lì la fine è lì la fine è lì diamo l'inchiapettata e inchiappettiamo il viola ragazzi e si arriva a terzi si riesce a classificare vai così random madonna non deve fare la penalità oppure no non lo so vedete proponete qualcosa ragazzi io cerco di inventarmi queste cose ma voi proponete lo so non siete in tanti a scrivere nei commenti perché insomma c'è pochissime visualizzazioni nei video però se guardate questo video fatelo per favore fatelo perché voglio portarvi altri video capito ragazzi quindi da grande tutto questa è stata una gara un po' macellata e un po' macellata e quindi ragazzi spolliciate commentate e che cacchio ci fa quella vola i cheater ragazzi questi sono i cheater noi ci rivediamo con un prossimo video su GTA un altro gioco bella a tutti